Salve a tutti, oggi siamo in un video molto breve e short solamente per farvi vedere le carte della Juventus Sì, perché già ho fatto un video e adesso vi faccio vedere le carte che mi mancavano, che sono uscite, quindi le plus Quindi iniziamo da il signor Locatelli, eccolo qua, plus 85 di controllo del gioco, tante roba Ora passiamo alle speciali, prima speciale Alvaro Morata Stella Plus Poi abbiamo sempre Alvaro Morata, ma questa volta Limited Edition Che ha le stesse cose di quello Stella E infine un'altra Limited Edition che questa volta è Alessandro del Piero Sì, non ho la versione grande, però ho questa qua che è la versione più piccola E quindi questo qui era la Juventus, bella